Il Teatro Puccini, costruito nel 1932, entra a far parte del patrimonio del Comune di Firenze. L'accordo di cessione dell'immobile è stato firmato tra i rappresentanti dell'amministrazione comunale e Manifattura Tabacchi, società proprietaria del complesso monumentale a cui è adiacente il teatro. Si avvia dunque a realizzarsi quanto previsto dal piano di recupero della struttura adottato nel dicembre 2018 dalla Giunta, che aveva portato in adozione anche la relativa variante al regolamento urbanistico. La cessione, secondo quanto si apprende, rientra nella Convenzione urbanistica rispetto alle previsioni sugli oneri di urbanizzazione. Amministrazione comunale e Associazione Teatro Puccini, ha sottolineato il vice sindaco Cristina Giacchi, hanno lavorato con molto impegno in questi anni per preservare lo storico teatro Puccini durante la complessa vicenda urbanistica e legale che lo ha visto coinvolto. Il Comune, ha dichiarato l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi, diventa proprietario di un altro grande teatro oltre al maggio musicale fiorentino e alla pergola. Il Puccini è il meno convenzionale dei nostri teatri, un luogo aperto alle più varie discipline artistiche, alle diverse generazioni e culture, al servizio della comunità degli artisti e dei cittadini e vogliamo mantenerne intatta quest'anima che affonda le sue radici nella Firenze operaia degli anni 40 e che ogni anno si rinnova con un'offerta culturale, professionale e di qualità.